Oggi 20 novembre, giornata dei diritti dell'infanzia, dei diritti dei minori, che nella scuola media secondaria di primo grado Petrarca Padre Pio si celebra ogni anno con il coinvolgimento totale delle classi. Siamo nella sala di radio media, la radio della scuola media della Padre Pio, che la nostra offerta formativa ha voluto fortemente una radio che sta crescendo, forse obsoleta, potrebbe sembrare desueta, fa un po' anni 50 e sotto certi aspetti anche radio DJ. E' un po' entrambe, nella società dell'immagine, non comparire ma avere una voce fuori campo, le voci fuori campo dei nostri speaker, i nostri ragazzi. Una voce che affronti tematiche così importanti, varie, come quella di oggi, la tematica del diritto dei minori, è non una novità, è un voler cogliere nel presente la voce e l'insegnamento del passato e sognare, sognare per un futuro che raccolga tutto questo. Buongiorno, sono molto felice oggi di essere qui nella ricorrenza nazionale del diritto dei minori. Sono felice di essere qui in questa scuola, la Beato Padre Pio, soprattutto sono felice di festeggiare questa ricorrenza qui nella radio di questa scuola insieme ai ragazzi. Una radio che dà voce alle loro idee, alle loro iniziative ed è bello festeggiare una ricorrenza di questa insieme alla voce dei ragazzi, alla voce libera dei ragazzi, accompagnata dagli adulti, sodalizzando con le istituzioni, ma che possano finalmente avere il proprio spazio, riappropriarsi delle proprie idee in modo critico, in modo analitico, dando voce e insegnando a noi adulti, soprattutto all'ascolto.